Questo video riguarda i migliori tre bici elettrica. Il vincitore della qualità è il Vivi Bicicletta Elettrica. 36W 250 W motori brushless ad alta velocità, che producono una velocità massima fino a 25 km orari. La nostra bicicletta elettrica ha una corrente a vuoto più bassa e una maggiore efficienza, oltre a tempi di servizio più lunghi rispetto a quelli normali. Con la batteria agli ioni di litio da 36W barra 10,4A, è possibile raggiungere un'autonomia fino a 40 km-80 km per carica. Dotata di due chiavi, la batteria può essere rimossa per la ricarica se necessario senza perdere la batteria. Il cambio professionale a 21 velocità aumenta la potenza in salita, un'ulteriore variazione della gamma e una migliore adattabilità al terreno. I freni a disco anteriori e posteriori assicurano una forza frenante rapida e uniforme e quando richiesto, la luce anteriore ti rende visibile di notte e nelle giornate nuvolose. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è Eliteway Bicicletta Elettrica. Potente motore brushless a bassa riluttanza da 250W. Le Bic è dotata di una batteria a litio di grado automobilistico da 11,2A barra 36V, con una forte potenza e prestazioni efficienti e stabili. L'autonomia massima di crociera in modalità servoassistita può raggiungere i 35 a 90 km. Ci sono tre modalità di guida integrate per biciclette elettriche, modalità elettrica pura, modalità di assistenza, modalità di guida. I motociclisti possono scegliere una modalità più adatta in base all'ambiente stradale. La bicicletta elettrica BK8 adotta un processo di forgiatura in lega di alluminio ultraleggero, che ha un'elevata durezza e antiossidazione. Il peso della bici è di circa 21,2-24,2KG con un carico massimo di 100 kg. L'effetto di assorbimento degli urti della forcella anteriore è davvero eccezionale. Il kit di trasmissione giapponese Shimano a 7 velocità viene utilizzato per migliorare le prestazioni in alpinismo. Quando si cambia marcia, è sensibile e non fa cadere la catena. Il vincitore del premio è Lituei Bicicletta. La velocità massima può raggiungere fino a 25 km orari e una pendenza massima di 25 gradi. Batteria al litio da 8,4 a barra 36 quinto per 35-70 km. Telaio in acciaio al carbonio Q195 ad alta resistenza. Le biciclette elettriche possono essere piegate rapidamente e sono facili da usare e riporre. È possibile scegliere tra modalità di alimentazione pura e modalità ciclomotore. Controllo a 3 velocità e indicatore Smart Metro si può utilizzare anche come normale bicicletta. I doppi freni a disco anteriori e posteriori e i freni elettronici, i freni e il motore si spegne per prima volta. Inoltre, i freni a disco anteriori e posteriori su misura offrono una maggiore protezione alla guida. La luce frontale a LED sicura e il clacson ti rendono più sicuro quando sei in viaggio. Il sistema di controllo elettronico e il design integrato 3 in 1 rendono la struttura della bicicletta più compatta e leggera. Il design della batteria rimovibile rende la ricarica più comoda. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.